Per la settima volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Aquila, la prima volta del secondo mandato. Ulteriore segno di attenzione per la città dell'Aquila e per la Scuola della Guardia di Finanza, dove era già stato nel 2017. La visita di Mattarella benedice il giuramento di 1175 allievi marescialli del 94esimo corso d'Orlicaneso II. Sfileranno in due battaglioni con il loro ingresso accompagnato dalla banda della Guardia di Finanza. Il comandante della scuola, il generale Cristiano Zaccagnini, come sempre pronuncerà la formula del giuramento, seguita dal coro degli allievi, lo giuro. Il Presidente Mattarella inoltre porrà la medaglia assegnata dal Quirinale sulla bandiera della scuola, proprio per le attività svolte nel campo della formazione dei giovani marescialli e tutto questo dinanzi al comandante nazionale della Guardia di Finanza, il generale Giuseppe Zafarana. Il corso per gli allievi marescialli è strutturato in tre anni, ne fanno parte in totale oggi 3092 allievi. La presenza degli allievi è fondamentale per la città anche in termini di economia. La presenza del capo dello Stato è significativa per la finanza. La scuola a Coppito fu costruita ad inizi anni 90. La cittadella è stata fondamentale nel sisma del 2009. Ospitò infatti diversi uffici e servizi per non interrompere le attività cittadine. Ospitò nel luglio del 2009 il G8 con i grandi della terra come volle Silvio Berlusconi. Fu teatro di tutte le riunioni operative tra l'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso e Berlusconi stesso per coordinare l'emergenza e, aspetto non di poco conto, gli appartamenti dei finanziari all'interno della struttura di Coppito hanno ospitato a lungo tempo chi era rimasto senza una casa. La guardia di finanza insomma è stata essenziale per la città nel mettersi a disposizione, ruolo riconosciuto da tutti anche a distanza di 14 anni dal terremoto. La scuola occupa una vasta superficie, un'area di 48 ettari, con una piazza d'armi al centro che dopo il sisma è stata chiamata Piazza Saprile, una delle più grandi in Italia, dotata di campi sportivi per le attività dei finanzieri, auditorium dai mille posti che nel dopo sisma ha ospitato anche diversi concerti, aula magna da 500 posti e 18 aula didattiche da 150 posti ciascuna, una struttura insomma strategica per l'Aquila e l'Italia intera che ospita lievi provenienti da ogni parte d'Italia.